Se fare la Dakar è sempre stato anche il tuo sogno, allora sei nel posto giusto. Io sono Joelle Mioni e quest'anno ce l'ho fatta. Ho concluso la mia prima Dakar. Te lo dico subito, non è stato per niente facile. Per questo motivo, insieme agli amici di TrueRiders, abbiamo deciso di creare una rubrica di video in cui vi spiego tutti i retroscena e le informazioni necessarie per aspirare un giorno a fare un evento di rally raid internazionale proprio come la Dakar. Sì, ma non ti preoccupare, perché partiremo proprio dalle basi. Ti racconterò che cos'è un evento adventuring, come partecipare, e soprattutto che moto usare e che strumenti di navigazione è necessario che tu impari a utilizzare. E poi faremo uno step ulteriore. Ti spiegherò da dentro come funziona una gara di motorelli e soprattutto andremo a leggere e imparare insieme a usare il roadbook. Quello strumento necessario per poter poi fare il grande passo, un evento di rally raid internazionale. Sì, ok, tutto bellissimo, però cosa devo fare per poter seguire questi video? Devo comprare un abbonamento? Ma che assolutamente no! Devi seguire semplicemente la pagina di Joelle Mioni e quella di TrueRiders su Instagram. Ti aspetto, ciao!